Ciao amici, l'argomento del video di oggi è un argomento di scottante attualità, almeno in Italia, è un argomento meno felice del solito. Riguarda quello che è successo in questi ultimi giorni, quindi a partire dal lunedì 4 gennaio, con l'ammissione da parte di O-Mobile dell'aver subito un attacco hacker e quindi il furto di 2 milioni e mezzo di dati. Io avevo tre schede della O-Mobile, su tutte e tre ho ricevuto questo dannato messaggio dove mi avvertivano, lunghissimo anche con toni abbastanza fastidiosi, mi avvertivano che con enorme ritardo, poi vi spiego anche perché, mi avvertivano che effettivamente dei malintenzionati erano entrati nel loro database, che è probabilmente tutto dovuto al Covid, che non è successo solo a loro, però come si dice sti cazzi, dicono che questi malintenzionati hanno rubato parte di dati anagrafici e ciò che riguarda le schede telefoniche, quindi anche il famoso ICCD che riguarda la SIM. Adesso, che cosa è successo e perché ce l'ho particolarmente con loro? Al punto che non escludo, se sarà possibile tramite garante della privacy, di fare una class action contro questi schifosi bastardi. È successo questo. Il 18 dicembre, in una serie di siti del dark web, un amministratore di uno di questi siti abbastanza zozzi e lerci, ha cominciato a dire di avere l'intero database di 2 milioni e mezzo di utenti o mobile, e li vendeva per 50.000 dollari in bitcoin, a qualunque malintenzionato volesse fottervi. La notizia inizialmente, capirete che non è che tutti passano le giornate nel dark web, è passata un po' sotto silenzio. Fin quando, dieci giorni dopo, il giorno 28 dicembre, una società di data security ha reso disponibili anche per l'internet normale di noi tutti questi annunci di vendita dei dati della home mobile. L'hacker forniva anche, come prova, 10 utenti presi a caso tra questi 2 milioni e mezzo di persone per verificare la qualità dei dati rubati. Che vi devo dire? È stata una cosa molto molto brutta, perché invece di agire immediatamente, non che, voglio dire, ormai con dei malintenzionati non serviva certo pagarli, perché comunque avrebbero venduto quei dati che sono dati informatici e che possono essere copiati a qualunque stronzo li pagasse sostanzialmente. Però, potevano almeno dare subito la conferma. Invece, hanno prima smentito, poi preso tempo e poi atteso fino al 4 di gennaio, lunedì, per cominciare a mandare questi dannati messaggi, questi messaggetti. Ti scriviamo per informarti che purtroppo home mobile, come numerose altre aziende, a me, mi ripeto, sti cazzi le altre aziende, a me mi interessa, è rimasta vittima di crimini informatici che si sono intensificati durante la pandemia, quindi in altro po' è pure colpa del covid, se si sono fatti fottere i nostri dati, insomma. D'analisi approfondite, tuttora in corso, in stretta collaborazione con le autorità inquirenti, è emerso che è stata sottratta illegalmente una parte dei tuoi dati con riferimento solo ai dati anagrafici e ai dati tecnici della tua sim. Eh, me coioni, come si dice. Quindi, insomma, ci sono i dati della sim, quindi l'ICCD, ci sono i dati anagrafici, quindi il nome, il cognome, l'indirizzo, il codice fiscale, il numero di telefono, c'è tutto. Adesso loro offrono la sostituzione gratuita della sim per cambiare quello che è l'ICCD. Tenendosi il numero, io materialmente non ho ancora potuto farla, però per motivi ed esigenze lavorative dovrò pensarci quanto prima, invito tutti voi che aveste ricevuto questo messaggio a farlo. Adesso gli scenari quali sono? Lo scenario, premettendo che io, vi ripeto, ce l'ho a morte con loro perché non hanno avvertito in tempo, hanno perso tempo, hanno mandato questi messaggi sinceramente inutili, inutili e con estremo ritardo, con delle giustificazioni puerili, veramente, da bambini. Adesso, purtroppo, come si dice, la stalla l'hanno aperta, i buoi sono scappati e i nostri dati sono in mano ai malintenzionati, che possono farci il cazzo che gli pare. Scusate la volgarità delle mie espressioni in questo video, ma sono giorni che ci penso e sono comunque sempre più arrabbiato, perché non dovevano trattare così i nostri dati, dovevano cercare di avere un po' più di tutela per noi utenti. Adesso, nel migliore delle ipotesi, si limiteranno con questi dati a del phishing, quindi riceveremo delle mail strane, oppure venderanno questi dati ai call center, quindi ci chiamerà qualche filippino che dice di chiamarsi Giovanni e che ci vuole dire che dobbiamo cambiare la linea telefonica o dobbiamo cambiare la caldaia a gas e queste cose simili. Nel peggiore delle ipotesi, c'è la possibilità del cosiddetto same swap, cioè falsificando la firma o ammesso che non abbiano anche una copia della nostra carta di identità, potrebbero costringerci a sottrarci il numero, nel senso fare il passaggio verso un altro operatore telefonico, entrare in possesso di tutti i nostri dati e poi fare una sorta di ransom, un riscatto, se trovano qualcosa di compromettente, tra virgolette, di qualunque natura, oppure se vogliamo rientrare in possesso del nostro numero. Ed è una cosa gravissima. Questa cosa si può bloccare. Fate attenzione soprattutto se vedeste, se avete ricevuto il messaggio e vedeste che la linea a un certo punto va via, abbiate la massima accortenza, chiamate anche le autorità se necessario, perché potrebbe essere il segno del sim swap. In qualunque caso, fatevi sostituire la sim e fate la massima attenzione perché ciò che è successo è davvero molto grave. Ciao a tutti!